buonasera a tutti allora questo è un altro breve video dove vi do la conferma che stasera alle 9 ci sarà un altro live dalla ps4 la terza per l'esattezza vedremo se ci sarà ancora come sera il mio amico pierluigi vediamo un po poi vediamo se fa riunire anche qualche altra persona come ad esempio l'iscritta proprio al nostro canale georgia la quale ieri sera ha giocato con me contro in live a fifa 17 chiara questa sera non ci sarà perché per indovinate voi perché stasera su canale cinque c'è qualcosa che mi interessa parecchio interessa insomma un programma dm comunque per me ed m comunque va bene ma quale sempre va bene comunque le appunto non ci sarà e appunto ci sarà questa live alle 21 su ps4 io vi aspetto abbiate pazienza ragazzi sempre abbiate pazienza perché siamo umani anche noi e abbiamo oltre youtube altre cose come vedete come vedete comunque siamo umani dobbiamo anche noi fare le faccende domestiche e altre cose quindi abbiate pazienza se non la diciamo alle 6 per dire ecco tipo lui diceva stasera alle 6 video conferma anche se saranno le sette e mezza o scusatemi o le sei e mezza o che ne so qualcosa di giù di lì anche perché io torno alle 6 poi l'ora che mi faccio la doccia l'ora che mi sono messo a dare una pulita la casa perché chiara non poteva far niente e siccome c'era sporco un pavimento pulito poi col bambino quindi capite che certe cose vanno fatte poi ho preparato per a per alessandro già oggi ha iniziato a preparare per noi per cui capite che queste cose vanno fatte ed è così come per tutti tanto bene quindi niente ci vediamo alle 9 io vi aspetto numerosi ovviamente perché ci divertiamo ancora una volta e sarà sempre così a dopo ciao